Vanessa Ballano, una commessa di 27 anni impiegata presso l'Eurospin di Castelfranco, Veneto, è stata brutalmente assassinata a coltellate davanti a casa sua a Spineda, Riese Pio X nel Trevigiano, la vittima apparentemente incinta di 2-3 mesi, aveva temporaneamente lasciato al lavoro. La notizia è stata riportata da un collega al sito fanpage.it. Vanessa, madre di un bambino di 5 anni in attesa del secondo figlio dal marito, Nicola Scapinello, era sposata dal 2013. Al momento dell'omicidio il marito non si trovava in casa, ma è riuscito a dare l'allarme insieme a un vicino che ha notato l'accaduto. L'autopsia a cura del dottor Antonello Cirnelli, su incarico della procura di Treviso, fornirà ulteriori dettagli sui sette colpi mortali inflitti durante l'aggressione, che ha coinvolto anche violenza fisica al volto della vittima.